... da parte dei tifosi per quanto riguarda i caroglietti del Castellano, c'è qualcosa che vuol dire ai tifosi di nostra scuola? Ma ti spiace, ti spiace, tanto consiglio l'ho letto e consiglio ai tifosi di dire esclusivamente di considerare la nostra scuola. Io sinceramente te ne arrabbiate una misura che è la prossima occasione di creare una collaborazione, una vicinanza, un avvicinamento, proprio di avvicinamento, perché siamo vicini e sarebbero persino a perdere di loro di testa di Dione sia per buona vita per loro. Ma per il capo io fossi verso una buona occasione per riavvicinarsi di cose lì e di parte della società, insomma.